Valbiceglie il primo round play-out contro la Paganese, la squadra di Bucaro vince 2-1 e tiene vive le speranze salvezza, assicurandosi la permanenza con due risultati su tre al ritorno. Alventura nel 4-4-2 di Bucaro non ci sono Altobello e Romizzi, al loro posto Vona e Maimone in attacco Makotà fianco a Rocco. Solito 3-5-2 per i campani con Mendicino e Diop copia offensiva. Al quarto d'ora passano gli stellati, filtrante di Maimone per Mansur che mette Makotà tu per tu con Baiocco, destro ad incrociare e 1-0. 6 minuti dopo il Biceglie sfiorerà doppio, punizione di Cittadino in area per Vona, colpo di testa e palla fuori di pochissimo. Al 34esimo squillo di Mattia su calcio di punizione, Spurio in tuffo evita il pari. 10 minuti prima dell'intervallo il Biceglie raddoppia con il suo capitano, Priola di testa sugli sviluppi di un corner, si coordina perfettamente e trafigge ancora Baiocco. La Paganese dopo il doppio svantaggio continua a premere, al ventesimo della ripresa ci prova Guadagni liberato da Diop, pallone alto sulla traversa. Un minuto dopo però il gol arriva, Schiavino apre per Zanini che serve di oppinare all'attaccante Scuola Torino, da pochi passi non sbaglia. Al 78esimo squillace su punizione e impegna Spurio sulla sua respinta, Onescu non inquadra la porta. La girandola di cambi finale non porta frutti, finisce 2-1 e nella gara di ritorno l'imperativo per i ragazzi di Bucaro sarà quello di non perdere.